Rocca la meglia Si tratta di una montagna nelle Alpicozze occidentali non troppo alta, ma nemmeno bassa circa 2800 metri il punto forte è indubbiamente l'aspetto soprattutto dal versante sud-ovest un'astronave aliena arenata su un altipiano e poi la salita, corta, tecnicamente non difficile e interessante sulla via normale ci sono solo alcuni punti da arrampicare non richiedono l'uso dell'imbrago corde dalla cima, spettacolo assicurato l'ambiente intorno è tranquillo un verde altipiano accompagnato dalle urla delle marmotte e dal mugire delle mucche tenda di fortuna 2500 metri davanti alla montagna e partenza all'alba mettetevi comodi e saliamo in cima e partenza all'alba una volta e partenza all'alba Dio La salita è alpinistica. La salita è alpinistica, ma non difficile, grado F, ovvero il grado più basso, da una scala da 1 a 5. Non sottovalutate mai i gradi alpinistici, spesso sono sottostimati. Anche una salita alpinistica facile richiede impegno e abitudine all'esposizione. Le salite alpinistiche facili sono adatte solo a trackers che hanno esperienza, ma nulla di impossibile. La salita è alpinistica. 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 E ora la discesa. La salita è alpinistica. 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 Quattro io fare video? Pagno, se la mia perla. Quattro? Quattro? iscrivetevi al canale per seguire i nuovi video un saluto iscrivetevi al canale